Signore, vi prego, aiuto! Sta per morire! Non c'è tempo, seguitemi! E' laggiù! E' passato ora sotto il ponte! Non c'è tempo, non c'è tempo! Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo! Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo! Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo! Questo idiota sta cercando di dirvi che è in debito con voi, signore! Chi sarebbe l'idiota? Tu, perché lo sei? Che facevate con questi tronchi? E' uno dei rischi del mestiere! Ci siamo accampati nei boschi qui vicino, tagliamo legna! Vorremmo costruire un mulino nella zona! C'è un buon posto non lontano dalla casa sulla collina dove abito io! Mi stai già simpatico! Affare fatto! Mi mancheranno pace e quiete, ma di certo il legno ci sarà utile! La casa richiede molto lavoro! Già, e non soltanto! Vediamoci alla capanna sulla spiaggia quando hai un po' di tempo! C'è qualcos'altro che devi vedere! Che cos'è? Una risorsa! Che cos'è?